oggi ci troviamo in valle varaita e precisamente nel comune di bellino quella che stiamo visitando è la borgata celle fin dai primi passi notiamo come sono state ben ristrutturate queste abitazioni in questa frazione ha anche sede il museo del tempo presso i locali della ex scuola elementare grazie a tutti notare la data di costruzione di questa abitazione questa pittura datata 1758 grazie a tutti questa fresco del 1864 questo pilone vuotivo del 1864 il nostro viaggio prosegue in direzione di Sant'Anna di Bellino questa è la borgata chiazzale la cappella di Sant'Anna costruita nell'anno 1760 questa borgata si trova a 1840 metri di altitudine percorrendo questo sentiero scalinata arriviamo alla parte superiore della borgata Sant'Anna questa grigia giornata non ci permette di godere dei magnifici paesaggi che ci circondano non ci permette di godere dei magnifici paesi che ci circondano non ci permette di godere dei magnifici paesi che ci circondano non ci permette di godere dei magnifici paesi che ci circondano anche questa gita è giunta al termine se il video vi è piaciuto condividetelo un grazie a tutti per la visione e un saluto da Walter